Cari fratelli e sorelle, quando vi ho invitato a iniziare questo cammino di preparazione, partecipazione e progettazione di un patto educativo globale, non potevamo mai immaginare la situazione in cui si sarebbe sviluppato. Il Covid ha accelerato e amplificato molte delle urgenze e delle emergenze che riscontravamo e ne ha rivelate tante altre. Alle difficoltà sanitarie hanno fatto seguito quelle economiche e sociali. I sistemi educativi di tutto il mondo hanno sofferto la pandemia, sia a livello scolastico che accademico. Ovunque si è cercato di attivare una rapida risposta attraverso le piattaforme educative e informatiche, le quali hanno mostrato non solo una marcata disparità delle opportunità educative e tecnologiche, ma anche che a causa del confinamento e di tante altre carenze già esistenti, molti bambini e adolescenti sono rimasti indietro nel naturale processo di sviluppo pedagogico. Secondo alcuni recenti dati di agenzie internazionali, si parla di catastrofe educativa. Un po' forte, ma si parla di catastrofe educativa. Di fronte ai circa 10 milioni di bambini che potrebbero essere costretti a lasciare la scuola a causa della crisi economica generata dal coronavirus, aumentando un divario educativo già allarmante, con oltre 250 milioni di bambini in età scolare, esclusi da ogni attività formativa. Davanti a questa realtà drammatica, sappiamo che le necessarie misure sanitarie saranno insufficienti se non verranno accompagnate da un nuovo modello culturale. Questa situazione ha fatto crescere la consapevolezza che si deve imprimere una svolta al modello di sviluppo. Affinché rispetti e tuteli la dignità della persona umana, esso dovrà partire dalle opportunità che l'interdipendenza planetaria offre alla comunità e ai popoli, curando la nostra casa comune e proteggendo la pace. La crisi che attraversiamo è una crisi complessiva, che non si può ridurre o limitare a un solo ambito o settore. È complessiva. Il Covid ha permesso di riconoscere in maniera globale che ciò che è in crisi è il nostro modo di intendere la realtà e di relazionarci tra noi. In tale contesto vediamo che non bastano le ricette semplicistiche nei vani ottimismi. Conosciamo il potere trasformante dell'educazione. Educare è scommettere e dare al presente la speranza che rompe i determinismi e i fatalismi con cui l'egoismo del forte, il conformismo del debole e l'ideologia dell'utopista vogliono imporsi tante volte come unica strada possibile. Educare è sempre un atto di speranza che invita alla copartecipazione e alla trasformazione della logica sterile e paralizzante dell'indifferenza in un'altra logica diversa, che sia in grado di accogliere la nostra comune appartenenza. Se gli spazi educativi si conformano oggi alla logica della sostituzione e della ripetizione e sono incapaci di generare e mostrare nuovi orizzonti in cui l'ospitalità, la solidarietà intergenerazionale e il valore della trasformazione fondino una nuova cultura, non staremo mancando all'appuntamento con questo momento storico. Siamo anche consapevoli che un cammino di vita ha bisogno di una speranza fondata sulla solidarietà e che ogni cambiamento richiede un percorso educativo per costruire nuovi paradigmi capace di rispondere alle sfide e alle emergenze del mondo contemporaneo, di capire e di trovare le soluzioni alle esigenze di ogni generazione e di far fiorire l'umanità di oggi e di domani. Noi riteniamo che l'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia. L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo, di generazione in generazione. L'educazione, quindi, si propone come il naturale antidoto alla cultura individualistica che a volte degenera in vero e proprio culto del io e nel privato dell'indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, l'impoverimento delle facoltà di pensiero e di immaginazione, di ascolto, di dialogo e di molta comprensione. Il nostro futuro non può essere questo. Oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo che coinvolga tutte le componenti della società. Ascoltiamo il grido delle nuove generazioni che mette in luce l'esigenza e, al tempo stesso, la stimolante opportunità di un rinnovato cammino educativo che non giri lo sguardo dall'altra parte, favorendo pesanti insustizie sociali, violazione dei diritti, profonde povertà e scarti umani. Si tratta di un percorso integrale, in cui si va incontro a quelle situazioni di solitudine e di sfiducia verso il futuro che generano tra i giovani depressione, dipendenza, aggressività, odio verbale, fenomeni di bullismo. Un cammino condiviso in cui non si resta indifferenti di fronte alla piaca delle violenze e degli abusi sui minori, ai fenomeni delle sposse bambine e dei bambini soldato, al dramma dei minori venduti e resi schiavi. A ciò si unisce il dolore per le sofferenze del nostro pianeta, causate da uno sfruttamento senza testa e senza cuore, che ha generato una grave crisi ambientale e climatica. Nella storia esistono momenti in cui è necessario prendere decisioni fondanti, che diano non solo un'impronta al nostro modo di vivere, ma specialmente una determinata posizione davanti ai possibili scenari futuri. Nella presente situazione di crisi sanitaria, gravida di sconforto e smarrimento, riteniamo che sia questo il tempo di sottoscrivere un patto educativo globale per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l'umanità intera nel formare persone mature. Oggi ci è richiesta la parressia necessaria per andare oltre visioni estrinsecistiche dei processi educativi, per superare le semplificazioni eccessive appiattite sull'utilità, sul risultato standardizzato, sulla funzionalità e sulla burocrazia che confondono educazione con istruzione e finiscono per atomizzare le nostre culture. Piuttosto ci è chiesto di perseguire una cultura integrale, partecipativa e poliedrica. Ci serve il coraggio di generare processi che assumano consapevolmente la frammentazione esistente e le contraposizioni che di fatto portiamo con noi. Il coraggio di ricreare il tessuto di relazioni in favore di un'umanità capace di parlare la lingua della fraternità. Il valore delle nostre pratiche educative non sarà misurato semplicemente dal superamento di prove standardizzate, bensì dalla capacità di incidere sul cuore di una società e di dare vita a una nuova cultura. Un mondo diverso è possibile e chiede che impariamo a costruirlo e questo coinvolge tutta la nostra umanità, sia personale che comunitaria. Facciamo appello in modo particolare in ogni parte del mondo agli uomini e alle donne della cultura, della scienza e dello sport, agli artisti, agli operatori dei media, affinché essi sottoscrivano questo patto e con la loro testimonianza e il loro lavoro si facciano promotori dei valori di cura, di pace, di giustizia, di bene, di bellezza, di accoglienza dell'altro e di fratellanza. Non dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci governano. Sarebbe infantile. Godiamo di uno spazio di corresponsabilità capace di avviare e generare nuovi processi e nuove trasformazioni. Dobbiamo essere parte attiva nella riabilitazione e nel sostegno delle società ferite. Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, di essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti invece di fomentare odi e risentimenti. Un processo plurale e poliedrico, capace di coinvolgerci tutti in risposte significative dove le diversità e gli approcci sappiano armonizzarsi per la ricerca del bene comune. Capacità di fare armonia. Ci vuole questo oggi. Per questi motivi ci impegniamo personalmente insieme a mettere al centro di ogni processo educativo, formale e informale, la persona, il suo valore, la sua dignità per far emergere la sua propria specificità, la sua bellezza, la sua unicità e al tempo stesso la sua capacità di essere in relazione con noi. Per gli altri e con la realtà che la circonda, respingendo quegli stili di vita che favoriscono la diffusione della cultura dello scarto. Secondo, ad ascoltare la voce dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, a cui trasmettiamo valori e conoscenze per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace, una vita degna per ogni persona. Terzo, a favorire la piena partecipazione delle bambine e delle ragazze all'istruzione. Quarto, a vedere nella famiglia il primo e indispensabile soggetto educatore. Quinto, a educare ed educarci all'accoglienza, aprendoci ai più vulnerabili ed emarginati. Sesto, a impegnarci a studiare per trovare altri modi di intendere l'economia, di intendere la politica, intendere la crescita e il progresso, perché siano davvero al servizio dell'uomo e dell'intera famiglia umana nella prospettiva di una ecologia integrale. Settimo, a custodire e coltivare la nostra casa comune, proteggendola dello sfruttamento delle sue risorse, adottando stili di vita più sobri, e puntando al completo utilizzo di energie renovabili e rispettose dell'ambiente umano e naturale secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà e dell'economia circolare. Cari fratelli e sorelle, con coraggio vorremmo impegnarci, infine, a dare vita nei nostri paesi di provenienza, a un progetto educativo, investendo le nostre migliori energie, non chiedendo avvio a processi creativi e trasformativi in collaborazione con la società civile. In questo processo, un punto del riferimento è la dottrina sociale, che, ispirata agli insegnamenti della Rivelazione e all'umanessimo cristiano, si offre come una solida base e una fonte viva per trovare le strade da percorrere nell'attuale situazione di emergenza. Un tale investimento formativo, basato su una rete di relazioni umane e aperte, dovrà assicurare a tutti l'accesso a un'educazione di qualità, all'altezza della dignità della persona umana e della sua vocazione alla fraternità. «È tempo di guardare avanti con coraggio e con speranza. Pertanto ci sostenga la convinzione che nell'educazione abita il seme della speranza, una speranza di pace, di giustizia, una speranza di bellezza, di bontà, una speranza di armonia sociale». Ricordiamo, fratelli e sorelle, che le grandi trasformazioni non si costruiscono a tavolino, no. C'è un'architettura della pace in cui intervengono le varie istituzioni e persone di una società, ciascuna secondo la propria competenza, ma senza escludere nessuno. Così dobbiamo andare avanti noi, tutti insieme, ognuno come è, ma sempre guardando avanti, insieme, verso questa costruzione di una civiltà, dell'armonia, dell'unità, dove non ci sia posto per questa cattiva pandemia della cultura dello scarto. Grazie.